Siamo a San Vito in Viale Ionio e andando così a riprendere, a fare dei servizi sulle situazioni di degrado, un cittadino, un amico, dall'accento lo sentirete di origine partenopea, con rabbia, con amarezza dice abbiamo una città, avete, abbiamo una città bellissima, però amministrata male, abbandonata. E' vero, è una delle città più belle d'Italia, io ho girato, bellissima, la natura gli ha dato un paesaggio meraviglioso, però è incurato, è pazzesco trovare buche di 300 metri lungo e la macchina si spegne sotto, basterebbe poco per conservarla, per preservarla. Lei da dove viene? Da Napoli, su po'. Da Reggio di Caserta. E da quelle parti queste cose si vedono di meno? Le cose sì, però così esagerate no. Da quanti anni lei sta a Taran? Io sono di passaggio da Taranto, sono venuto altre volte, ma in questo stato di degrado non l'avevo mai vista, pozzangri così profonde e a rischio di sicurezza, qualcuno con la moto ci va dentro, ci può anche morire, si scivola, ci sono messi di ferro, le transgene in mezzo, l'acqua non si vedono, però la natura ha fatto un regalo bellissimo a Taranto, è troppo bello il paesaggio. Però in compenso, purtroppo abbiamo amministratori non belli. Purtroppo devo statare che non sono all'altezza, non ci tengono al territorio, è vergognoso. Ecco, vedete, la nostra è un'informazione di servizio, siamo aperti a tutto, il cittadino ci ferma e noi diamo voce. Questo è il nostro modo di fare informazione, è la nostra mission. Grazie a tutti. Grazie a tutti.